Ciao amici di MyFootballGersey! Oggi vediamo un antivento, quello del Paris Saint Germain per la stagione 22-23. Questo antivento del Paris Saint Germain per la stagione 22-23 è prevalentemente nero. L'antivento presenta una banda bianca sul petto e sulle maniche e una banda più sottile e rossa sulle maniche. Il logo Nike e lo stemma PSG sono di colore bianco. Questo antivento è dotato di cappuccio con cordicini. Le tasche sono dotate di cerniera per evitare che gli oggetti escano durante gli allenamenti o nella vita quotidiana. Un antivento molto elegante e sobrio che può tenervi al caldo durante gli allenamenti nelle giornate fredde. L'eleganza del capo permette di indossarlo anche nella vita di tutti i giorni. Era una delle prime volte che provavo un antivento. Devo dire che è veramente molto bello e sono rimasto soddisfatto. Nella mia classifica questa prende 5 stelle. Ve lo consiglio vivamente. Materiali ottimi, ottimi tempi di spedizione, il costo lo vedete qui sopra, fate un po' i vostri calcoli. Ora vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Quindi andate sul sito per vedere queste e altre bellissime offerte. Adesso vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media.